Noi diciamo no al giustizialismo e diciamo no all'impunitismo, diciamo cioè no a entrambe queste derive che hanno bloccato le possibili riforme. Intendiamoci delle riforme sono state fatte, dei passi avanti sono stati compiuti anche in tempi non lontani, anche in tempi recenti ma quello che voglio dire qui oggi senza quindi mettermi a rivendicare nulla e senza fare un ragionamento di parte ma anzi superando la logica della fazione è che noi oggi con Draghi e con la Cartabia abbiamo un'occasione unica. Quest'occasione resa pressante dall'Europa dobbiamo cogliere, è nostra responsabilità, dà il senso dell'importanza di questo governo e dell'importanza del nostro far parte di questo governo.